Ho parlato in diversi video degli agenti immobiliari, ho parlato tante volte dell'importanza di avere l'agente immobiliare in squadra, ho parlato tante volte delle persone che reputano semplicemente un costo all'agente immobiliare, ho spiegato perché sicuramente l'agente immobiliare vi può portare ad avere più operazioni. Quello che invece credo di non avervi mai detto è di quanti agenti immobiliari avete bisogno, quindi quanti agenti immobiliari servono per fare la tua attività di investitore immobiliare. E' importante questa cosa perché non possono essere troppi e non possono neanche essere pochi e questa cosa purtroppo ragazzi non la posso definire in un video, cioè non vi posso dire quanti agenti immobiliari vi servono oggi. Quello che vi posso invece spiegare è come ho fatto io a capirlo, come mi sto muovendo in questo momento, come sono cambiate le cose magari nel tempo per me. Sicuramente vi posso dire che all'inizio della vostra attività vi servirà un agente immobiliare e vi dico anche perché dipende ovviamente da dove volete andare, che capacità avete, quanti soldi avete, quante operazioni potete fare. Provate a ragionare su questa cosa. Numero uno, che competenze oggi avete? Quindi oggi parto a fare la mia prima operazione immobiliare ma non ho competenze di ristrutturazione e devo ancora scegliere magari l'impresa giusta e magari non ho neanche l'architetto. Quindi posso effettivamente fare due operazioni, tre operazioni in contemporanea. Io vi posso dire che ho messo in piedi fin da subito nel giro di due mesi ho messo tre operazioni in piedi, due sessioni di compromesso e un'asta. Tre operazioni all'inizio vi posso dire che comunque le ho gestite. Quindi ci può stare, non vi consiglio di correre troppo, questo assolutamente. quello che vi posso dire è che l'agente immobiliare va cercato, dipende da quante operazioni voi siete in grado di fare e il quante operazioni voi siete in grado di fare dipende dalle vostre competenze e da quanto tempo avete anche a disposizione. perché è inutile che fate un'operazione e poi dopo dovete magari andare a controllare il cantiere e non ce l'ha fatta passare e poi dopo scoprite il sabato che siete andati che in realtà sono andati solo i lunedì e non hanno fatto un cazzo. cioè questa cosa può essere effettivamente un problema. Quindi nel momento in cui voi capite quante operazioni potete fare e dipende molto anche dai capitali che avete a disposizione. attenzione che i capitali non per forza devono essere vostri. Potete anche avere capitali per esempio da banche, finanziarie, terzi eccetera. allora potete fare più operazioni. Vi dico perché perché è controproducente in realtà avere più agenzie e poi non essere in grado di chiudere l'operazione. vi faccio un esempio. Se voi oggi siete in grado di avere un'operazione sola, avete magari 100.000 euro di budget, faccio un esempio. ho 100.000 euro di budget, posso fare un'operazione, cioè ho messo in piedi un'operazione, ho impegnato i miei 100.000, non ho la più palida idea di dove andare a pescare altri soldi, però ho tre agenti immobiliari. quindi che cosa succede? Che mi chiama un agente e mi chiama un altro agente che hanno delle operazioni che sono profittevoli e io non so come fare, non sono magari ancora in grado di farlo, non so come si fanno le operazioni senza soldi e non sono capitalizzato. E che cosa succede? Che io magari gli dico a questo soggetto, gli dico no, non la faccio perché non ho soldi, faccio un esempio, è una pirlata di una cosa del genere, però magari le lo dico, all'altro la stessa cosa e che cosa succede? Che la prossima volta magari provano a chiamarmi, la prossima volta ancora provano a chiamarmi, quando io ripeterò questa cosa per più volte, a un certo punto, ragazzi, andranno da un altro investitore. Per forza, lo fareste anche voi e lo farei anch'io. Quindi questa cosa è normalissima. Ecco perché non dovete avere troppe agenzie se non siete in grado di fare le cose con più tecniche, se non siete in grado di fare operazioni senza soldi, se non siete in grado di avere più capitali a disposizione per fare le vostre operazioni. Perché un conto è, ho un agente immobiliare, gli dico guarda in questo momento impegnati con i capitali, magari devo uscire con altri soldi, dico appena avendo questo posso fare l'altra. Io ragazzi vi consiglio, poi ve l'ha avuto lì, eh, state facendo la prima operazione, dovete imparare, ve l'ha avuto lì. Se voi avete un'operazione, avete quei soldi lì, voi avete solo un problema di testa. Voi non sapete ancora come fare, ma si può lavorare anche con capitali di terzi. Questa cosa a un certo punto diventa obbligatoria. Però non sapete magari come fare, non avete la minima idea magari di come fare questa cosa, ok? Imparatela. Imparatela perché questa cosa è importante e ve lo dice uno che ad oggi conta 83 agenzie immobiliari su Milano che gli segnalano operazioni. Ma per farlo chiaramente, uno, ho dovuto fare molti appuntamenti, non solo io ma anche i miei soci. Quindi per esempio qualche agenzia nemmeno mi conosce, cioè sanno che io ci sono dietro, ma magari ci vanno i miei soci, ci vanno anche dei ragazzi che collaborano con noi. E quindi questa cosa è importante. Ma allo stesso tempo, come ho detto prima, devo avere la forza di chiudere quelle operazioni. Perché io a un certo punto darò dei parametri e dirò, faccio un esempio, io voglio chiudere almeno al 20% operazioni di questo tipo. Voglio operazioni che siano almeno al secondo piano, voglio operazioni che abbiano l'ascensore. Ho capito, una volta che però il mio agente immobiliare soddisfa tutte queste cose e ha quell'operazione per me, io non posso dire no, non la faccio. Non posso, cioè mi brucio. A quel punto ci vuole poco ragazzi, ci vuole poco a bruciarsi e a non lavorare più. Quindi dovete poi a un certo punto attivare il meccanismo. Il meccanismo che vi serve è sicuramente quello di trovare operazioni e trovare capitali. E l'agente immobiliare vi darà una grossa mano sicuramente nel discorso di trovare più operazioni. Se ti è piaciuto questo video puoi fare il dittino in su e dare mi piace. Puoi commentare, così mi dici anche che cosa ne pensi, eccetera. Ti posso anche magari rispondere in un altro video. Puoi anche, se ti fa piacere, condividere questo video con altre persone. Quello che ti consiglio è di iscriverti al mio canale e di attivare anche la campanella. In maniera tale che ti arrivano poi le notifiche. Se vuoi ricevere inoltre tre delle strategie che mi hanno permesso di diventare libero finanziariamente in poco più di due anni. Trovi il link in descrizione.